Se volete la seconda parte di questa challenge parodia che sto facendo io Aggiungiamo i 90 mi piace a questo video perché secondo me li merita tutti Bella a tutti ragazzi di Kinga99 Siamo qui con un nuovo video Oggi finalmente saremo nella primissima parodia del canale Allora intenzione di portare questa parodia praticamente tratterà Cioè diciamo la parodia della challenge che sta spopolando adesso su youtube Che praticamente se canti o balli perdi praticamente Io invece visto che sono Agab ho deciso di fare il contrario Se non canto e non ballo Ovviamente a ballare non è che mi alzo e faccio il coglione Faccio tipo movimenti così un po' ambigui tipo E quindi la challenge che dovrò fare io sarà che se non canterò e non ballerò Perderò diciamo che lo scopo non c'è alla fine se riusciamo a fare questa cosa è tanta roba Però diciamo che uno scopo ben preciso non ce l'ha È giusto per fare qualcosa di diverso sul canale Visto che ultimamente vi sto portando sempre il gameplay E ogni tanto un vlog o una challenge così mi piace portarlo Giusto per spezzare il ritmo e fare qualcosa di diverso appunto Ovviamente questo video c'è il video che andrò a guardare per fare questa challenge Durerà 23 minuti però siccome non tutte le canzoni le conosco E non tutte diciamo non tutte sicuramente mi piaceranno Farò solo cercherò almeno di farne una decina Tra cui quelle che mi piacciono di più e magari so qualche parola Giusto per cantare qualche cosa e non dire tante minchiate come faccio al mio solito Un'altra cosa raga mi raccomando Se questo video raggiunge almeno i 60 mi piace In futuro vi porterò altri tipi di challenge oppure vlog Quindi mi raccomando spolliciate tantissimi mi piace Mi raccomando così ve lo porto sicuro Allora adesso partiamo seriamente col video Non sto stando Non sto ballando Non sto ballando Abbassando un po' il volume perché se no so cazzi Non senti tu simmi Non le canzone a parte c'è il testo Non lo so malamente Queste ancora parole non le so malamente Le parole non le so Non sono mai queste le parole però faccio pinta di cantare Quanto è bella sta canzone raga C'è proprio un cazzo è bello Fino a Bangkok Cercando te Madonna quanto faccio cagare A cantare Questa canzone non me la ricordo Perché faccio cagare This is my life Questa canzone non me la ricordo Come on Non so mi ricordo solo le parti Come on Che poi non dici mai così però ho dettagli Oh è bella questa regata Questa canzone non me la ricordo Questa canzone non me la ricordo Questa canzone non me la ricordo Non le so malamente Non le so malamente Paradise Paradise Bello questo mi piacevole passare Paradise Oh 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 In the intro Naaaa flavor Lata Am bili Love Lo 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 come ti fa ti prevede a te dance for me come ti fa un'intera non finue e stavol le parole non le so però se la canzone e stavolta sempre non finue ma sempre che stavolta io non è suonassino vabbè bella questa bella questa bella questa fin si fa vicino fin si fa vabbè 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 sempre work 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 in non Grazie a tutti We are young E non dice I love it a sto giro Le parole non le so E questo non è vero Solo così fa sta parte Ah si sta canzone Ah questo è quello che fa Eccola ecco arriva No ha stufato Non so letteralmente le parole o le dandand in questa canzone fa così tra i grandi in l'ololo vg non è mai parlare di vai non fissero Oh, ballo l'oloro! Sì, 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 sì On again, just by Sta canzone stavo cercando pure Adesso so come si chiama Ok Basta, 13 minuti, raga Una sorprezza assurda C'è io che faccio il coglione Ma quando? Comunque ragazzi Spero che nonostante la mia coglionaggine Il video vi sia piaciuto lo stesso, mi raccomando Aggiungiamo almeno i 60 mi piace Se volete altri video del genere, challenge Magari in compagnia, mi raccomando Se volete una seconda parte di questa challenge Che sarebbe appunto la Se non canti e non balli Perdi, quindi volendo in futuro Ve la posso riportare Però questo video Allora se volete delle challenge qualsiasi Raggiungiamo i 60 mi piace Se volete la seconda parte Di questa challenge Parodia che sto facendo io Non so se l'ha già fatto qualcun altro Però non ho controllato Però diciamo che Mi è venuta in mente oggi Guardando il video di RdT Così lo spammo pure E quindi l'ho voluta fare Quindi se volete una seconda parte Raggiungiamo i 90 mi piace a questo video Perché secondo me li merita tutti Niente Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto In descrizione trovate il canale di NuboCrew E di Frino97 Mi raccomando Passateci E niente E noi ci vediamo al prossimo video Now I'm on the outside 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 Grazie a tutti.